Parlo in questa breve relazione di un progetto che mi coinvolge anche in prima persona con il nostro gruppo di Roma per la formulazione di una strategia treat to target nella gestione dell'osteartrosi di ginocchio. Il lavoro sarà in parte agevolato perché essendo un lavoro in fase di ultimazione per cui prossimo alla sottomissione per pubblicazione non potrò presentarvi grandissimi risultati anche se in anteprima vi farò vedere qualcosa, dall'altro rende le cose un po' più complesse perché appunto non potrò mostrarvi moltissimi risultati relativi al lavoro. Sicuramente le presentazioni precedenti rendono molto più agevole la parte introduttiva che rappresenta a questo punto una formalità, sia per le relazioni del professor Iolascon che del professor Minisola. Ovviamente quando parliamo di ostartrosi si è capito che si parla di una condizione patologica dell'intera articolazione a prescindere da quale sia il distretto articolare coinvolto e che ovviamente se protratta nel tempo può determinare dei danni molto importanti non soltanto dal punto di vista prettamente anatomico e funzionale dell'articolazione ma ovviamente con il sovrapporsi poi di caratteri anche infiammatori, magari più caratteristici per noi in reumatologia per esempio di patologie infiammatorie quali l'artriti reumatoide ma che hanno sicuramente anche un loro peso nell'evoluzione e nello sviluppo della stessa ostartrosi. Generalmente sono coinvolte appunto a grandi articolazioni come esempio le ginocchia ma le mani sicuramente e la sede un pochino più diffusa. Parliamo quindi di una patologia dell'intera articolazione in cui ovviamente poi entrano in ballo diverse strutture non solo anatomiche ma anche diverse molecole, diverse citochine quando c'è una componente infiammatoria. Dunque si tratta di una patologia molto più complessa che mano a mano che fa anche progressi la medicina in questo senso riusciamo probabilmente a comprendere molto meglio tant'è che oggi è abbastanza acclarato il fatto che non esiste solamente un fenotipo di osteartrosi ne esistono diversi non soltanto in base a quella che è la causa ma anche in base a quello che poi è il successivo sviluppo e che ne determina dunque anche l'evolutività nel tempo. Già nel 2003 Loarsi definiva che circa il 10% della popolazione mondiale con 60 anni d'età aveva un problema di salute significativo attribuibile all'eostartrosi e questo dà la dimensione del problema non soltanto per la diffusione della patologia ma anche per il suo aspetto cronico che determina poi a lungo termine ovviamente una gestione difficoltosa del paziente affetto da osteartrosi. Ovviamente per esempio altri studi più recenti documentano come sempre in United Kingdom l'insorgenza per esempio dell'ostartrosi di ginocchio riguarda l'11-19% della popolazione e 5-15% anche in altre nazioni dunque un problema sicuramente molto 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 diffuso. La prevalenza maggiore di osteartrosi è sicuramente riscontrata a carico delle mani ma sicuramente in letteratura abbiamo molti più studi che valutano quello invece che è la localizzazione di ginocchio per cui anche per quello che abbiamo poi sviluppato questo ambizioso progetto di stilare quella che è una strategia finalizzata al trattamento e soprattutto a come seguire nel tempo i pazienti affetti da osteartrosi di ginocchio. È un lavoro che prende respiro da un progetto internazionale già avviato che ha portato alla pubblicazione sotto legge anche della Società Adriana di Remotologia della definizione di un'ostartrosi per goce sintomatica di ginocchio che si basa comunque prevalentemente sulla ricerca di fattori di rischio di red flag dal punto di vista sintomatologico che possono indurre a sospettare un'ostartrosi precoce in un paziente che presenta determinati tipi di sintomi e che vi posso anticipare in questo momento sta progredendo attraverso uno studio di validazione radiografico che permetta di capire quanti pazienti che soddisfano questa definizione che per motivi di tempo ovviamente non vi presento che tipo di stadio radiologico hanno per capire effettivamente attraverso alcuni sintomi guida quanti pazienti riusciamo a intercettare in fasi precoci di malattia. Quando parliamo di 3-2 target cos'è che intendiamo? Per 3-2 target si intende un concetto abbastanza generico che è medicina utilizzato per disegnare strategie terapeutiche basate su un modello di trattamento orientato a raggiungere determinati obiettivi. Quindi diciamo una definizione di quello che fondamentalmente vogliamo raggiungere o quantomeno tentare di standardizzare dei criteri più o meno uniformi in un ambito in cui non abbiamo una standardizzazione ben definita e quindi dei criteri ben definiti. Perché applicare questo concetto anche nell'osteartrosi? Perché ce l'abbiamo per molte altre patologie. Abbiamo per esempio alcuni target specifici per diverse patologie soprattutto croniche. Per il diabete per esempio si possono considerare appunto l'emoglobina glicata, la glicemia, nell'osteoporosi si valuta la densità ossea, l'insorgenza o presenza di nuove fratture vertebrali e ovviamente nelle carte di rischio per esempio cardiovascolare si tengono conto di parametri quali la pressione arteriosa, le concentrazioni lipidiche sieriche. Per cui insomma abbiamo dei parametri che ci aiutano nella gestione di altre patologie croniche. Noi abbiamo seguito fondamentalmente quello che sono già le evidenze abbastanza importanti che sono emerse in un approccio di questo tipo per l'artrite romatoide. In questo senso una strategia 3 to target promossa dall'Eura è passata nel 2010 con lo stilaggio di due principi generali e alcune raccomandazioni che potevano aiutare il clinico nella gestione dell'artrite romatoide e a rimarcare poi l'importanza soprattutto a lungo termine si è potuto quindi sviluppare quello che è una sorta di algoritmo per la gestione del paziente, approfondito ulteriormente nel 2014 in questa pubblicazione posto appunto del 2016 in cui si è riaffrontato un pochino quelli che erano questi punti proposti. Per esempio sottolineando l'importanza della centralità del ruolo della figura specialistica nella gestione del paziente nell'importanza anche di condividere una scelta terapeutica in un paziente affetto da una patologia cronica a sconcetti che magari possono anche sembrare banali ma con il quale poi effettivamente noi ci scontriamo nella pratica clinica quotidiana perché questa poi è la problematica gestire un paziente che dovrà portare avanti una patologia per tutta la sua vita di conseguenza sicuramente rappresentano degli elementi molto importanti e delle guide utili. Sulla base di queste raccomandazioni pertanto si è raffinato un pochino quella che era l'algoritmo precedente ma fondamentalmente il concetto è quello di definire quelli che possono essere i nostri obiettivi e più o meno come raggiungerli attraverso dei consigli quotidiani. Esistono già in letteratura ovviamente delle linee guida per la gestione dell'osteartrosi di ginocchio più o meno diversi, più o meno similari il problema di fondo è che fondamentalmente per quanto sicuramente utili oggi rappresentano uno strumento importantissimo non sono del tutto uniformi quindi per esempio abbiamo le linee guida dell'Oarsi che stabiliscono il trattamento per esempio dell'osteartrosi di ginocchio considerando la presenza di comorbidità nel paziente oppure l'interessamento poliarticolare dell'osteartrosi quelle per esempio invece dell'esceo che stabiliscono una sorta proprio di algoritmo un pochino più definito passando per terapie non farmacologiche progressivamente farmacologiche sempre più da questo punto di vista più impattanti fino appunto alla chirurgia in relazione alla risposta o meno del paziente però ecco sono tutte linee guida che in qualche modo non arrivano ad una conclusione univoca questo perché? Perché ovviamente abbiamo delle difficoltà perché? Perché non abbiamo parametri condivisi nel definire l'efficacia di un trattamento perché non abbiamo la carenza di indicazioni per esempio utili a gestire la patologia nel lungo termine la carenza per esempio di suggerimenti anche su come gestire i flare di malattia quindi le fasi di riacutizzazione di malattia l'assenza di una personalizzazione di terapia un pochino più definita questo magari sulla base dei fenotipi di malattia del paziente dell'osteartrosi la carenza appunto di diversi trattamenti in relazione a quello che è il quadro clinico che abbiamo davanti del paziente quindi il tipo specifico di osteartrosi e la senso ovviamente di un bersaglio ben specifico perché gran parte di queste linee guida suggeriscono quelli che sono i trattamenti però poi non definiscono in modo un pochino più concreto a cos'è che dobbiamo spiegare cioè dove dobbiamo arrivare semplicemente vengono definiti ovviamente per esempio il parametro più diffuso può essere il dolore il fatto che il paziente magari abbia una risposta da questo punto di vista ma non c'è uniformità nel definire quali sono questi bersagli da raggiungere sulla base dunque di questi punti sfruttando anche gli incontri che ogni due anni si effettuano che il nostro gruppo effettua attraverso il simposio internazionale della terapia intraarticolare a Praga nel ottobre del 2017 abbiamo raccolto un pannello di esperti internazionali per cercare di definire e proporre quella che potrebbe essere appunto l'applicazione di una strategia 3 to target anche nello stoartrosi di ginocchio questi sono tutti gli esperti che abbiamo coinvolto quindi abbiamo tentato di dare un respiro il più possibile internazionale ovviamente al progetto quindi abbiamo ovviamente partecipanti europei abbiamo anche partecipanti dall'India dal Canada, dal Brasile quindi abbiamo cercato di estendere il più possibile abbiamo incluso anche una rappresentante di pazienti di una società quindi di un gruppo di pazienti con patologie osteoarticolari per cercare di raccogliere un pochino quelle che potevano essere le criticità e quindi tutti i suggerimenti utili in questo senso siamo quindi come vi dicevo prossimi alla sottomissione di in realtà di due lavori di un editoriale di accompagno che motiva il perché probabilmente può essere utile proporre una strategia di questo tipo anche nell'ostertrosi di ginocchio e poi i dettagli un pochino più specifici di quello che è stato il lavoro il lavoro che abbiamo sviluppato fondamentalmente basato su una prima riunione come vi dicevo a ottobre una seconda effettuata nel 2018 quindi in quest'anno che ha portato allo stilaggio di queste conclusioni fondamentalmente vi mostro qui un pochino rapidamente in anteprima quello che abbiamo stilato sulla falsarica dei lavori diciamo già presenti per esempio per arti del romato abbiamo anche noi questo gruppo questo pannello di tecnici ha sviluppato due principi generali una serie di suggerimenti che proprio in questi giorni stiamo dibattendo per esempio di presentare piuttosto che come suggestion come good clinical practice statement quindi diciamo dei suggerimenti in questo senso che possono essere utili nella pratica clinica quotidiana visto anche il fatto che l'ostertrosi è gestita da multidiscipline per cui non è finalizzata solamente a una figura ma a tutte in qualche modo le figure specialistiche coinvolte nella sua gestione e quindi per esempio è stato definito come il trattamento deve essere ovviamente una scelta condivisa tra il paziente e il clinico come ovviamente il goal primario nel trattamento dell'ostertrosi di ginocchio è quello di minimizzare e di massimizzare nel lungo termine la qualità della vita del paziente il controllo ovviamente dei sintomi la prevenzione dell'evoluzione strutturale potrebbero apparire vi ripeto delle banalità ma in realtà è il primo lavoro che porta o tenta di fare una cosa di questo tipo cioè di trovare degli elementi comuni che in qualche modo possano essere condivise appunto da multidiscipline non a caso nel pannello di esperti che prima vi ho presentato abbiamo inserito ortopedici reumatologi abbiamo specialisti di medicina fisica e riabilitativa quindi abbiamo tentato di coinvolgere tutte le figure in qualche modo coinvolte nella gestione di questi pazienti e poi abbiamo sviluppato queste suggestion come per esempio la valutazione come target principale per esempio del raggiungimento come parametro del PAS il patient at the acceptable symptom state perché a prescindere da quelli che possono essere i parametri clinimetrici utilizzabili sicuramente la priorità per il paziente è capire come sta cioè sapere se sta bene se la condizione in cui si trova attraverso il trattamento X è per lui una condizione accettabile per la gestione della malattia dei sintomi delle attività di vita quotidiana dunque in qualche modo abbiamo dovuto stressare la centralità del ruolo del paziente nelle scelte appunto che da condividere con il clinico per la gestione della sua patologia e scorrendo insomma ecco ne abbiamo appunto altre come ad esempio l'importanza di informare il paziente sui trattamenti e di condividere con lui la scelta l'importanza di rintracciare e modificare fattori di rischio per lo sviluppo dell'osteartrosi ovviamente rintracciabili identificabili perché la finalità non è solamente quella di trattare i pazienti che hanno quadri di ostartrosi più conclamata ma è anche quella sulla base di quanto si era detto anche nelle relazioni precedenti intercettare il più precocemente questi pazienti al fine di ridurre quella che è l'evolutività della malattia in questo senso pertanto cercare di agire il più tempestivamente possibile è ovviamente per questo un passaggio fondamentale la diagnosi precoce perché senza quello ovviamente non è fattibile ovviamente dimenticando quelle che possono essere ovviamente magari il peggioramento legato a comorbidità che possono accompagnare il paziente che si è dimostrato peggiorare le condizioni generali dello stesso in corso di ostartrosi pertanto anche quelle devono essere regolarmente monitorate fino ovviamente alla selezione nei pazienti in cui le condizioni lo richiedono a quello che poi è il trattamento chirurgico quindi non soltanto farmacologico e non farmacologico a rimostranza del fatto che abbiamo avuto un buon risultato abbiamo ovviamente sviluppato un voto di agreement di questi principi e suggerimenti e proposti raggiungendo per tutti dopo ampia discussione un buon dato di accordo abbiamo ovviamente sviluppato anche una research agenda cioè quello che c'è da fare ancora perché questo è solamente un primo passo per cui per esempio la ricerca per quanto possibile di specifici biomarker utili a monitorare la malattia studiare per esempio interazioni con altre patologie determinare la migliore attività utile fisica migliore attività fisica utile per quel paziente in base alle sue caratteristiche stabilire in modo più rigoroso il fenotipo di dolore nel paziente in base al fenotipo di ostartrosi per esempio identificare con precisione fenotipi di malattia del paziente con presenza di bone marrow lesion o via dicendo quindi cercare in qualche modo di personalizzare e categorizzare un pochino meglio la patologia pertanto concludendo ovviamente la patologia ostartrosica di ginocchio è sicuramente molto più complessa e articolata di quanto spesso comunemente magari può essere pensato e per quanto esistano già linee guida nella gestione del paziente non sono del tutto uniformi e non danno spesso un bersaglio unico in qualche modo finale che possa quindi farle convogliare tutte verso un'unica direzione quanto proposto ovviamente solamente un esempio sulla base dei successi ottenuti per l'artrite romatoide per cui rappresenta solamente un punto d'inizio non assolutamente una definizione assoluta e lo scopo ovviamente è quello poi di fornire ai vari specialisti delle molte discipline che seguono il paziente affetto delle strategie o degli obiettivi comuni da poter raggiungere ci tengo anche ad invitarvi ci saranno sicuramente sviluppi nel prossimo convegno che si terrà a ottobre del 2019 a Lisbona il secondo il meeting del simposio internazionale di infiltrazioni di terapia intraarticolare e con questo io vi ringrazio per l'attenzione grazie dottor Gigliucci c'è spazio per un